a settembre del 1981 quindi non molto tempo fa l'assemblea nazionale francese aboliva la pena di morte quindi un trionfo della civiltà di fanti il primo ministro della giustizia esclama sul nostro suolo non scorrerà più sanque francese però non passa molto tempo quasi diciamo in contemporanea la stessa assemblea vota la legge a favore dell'aborto l'ex presidente dell'accademia delle scienze scrive una lettera aperta le uccisioni continueranno ad essere quotidianamente perperate lasciate la vita alle creature innocenti come la lasciata ai peggiori assassini il problema è molto serio compattuto e c'è un principio di coscienza oltre che la legge di dio l'aborto è sempre un dilitto un delitto anche se la legge civile lo ha legalmente permesso la legge civile non può rendere onesto quello che è intrinsecamente disonesto creare allora maggiore formazione ridurre le difficoltà economiche circa la casa la salute l'occupazione quindi metodi per andare incontro a questa problematica ci sono soltanto che bisogna avere la volontà della scelta e quindi avere anche un'attenzione alla formazione dei giovani dare ai giovani padronanza di sé alla sessualità alla paternità responsabile informare sui mezzi di limitazione delle nascite promuovere l'adozione vi è però un altro problema che intacca il problema della vita della morte è il dramma della eutanasia l'uomo non è padrone della vita ma solo amministratore non è che l'uomo se l'ha creata lui la vita gli è data e gli è data da dio attraverso i genitori viene praticata praticata per evitare fastidi qui è il problema perché ci sta l'eutanasia per evitare fastidi per ridurre le spese assistenziali è un ridurre l'uomo a brango di belve che elimina la bestia malata o vecchia il paragone proprio non mi piace è un insulto però è una realtà cultura di morte una di culture di morte è l'omicidio l'omicida priva la vittima del diritto di vivere di compiere la missione affidategli da dio di potere di godere della sua famiglia da questa crudeltà non sono esenti gli stati e quindi abbiamo la corsa agli arsenali militari alle guerre e guerriglie invece si potrebbero sfamare intere nazioni e creare sviluppo questa è stata l'opera di sviluppo di padre Pio grazie a tutti